Celebrare il carciofo per me era importante, è uno dei miei cibi preferiti e non potevo chiedere di meglio per dipingerlo. L'idea che c'è dietro quest'opera era sottolinearle l'importanza insieme alla lumaca che sta accanto al carciofo che ho realizzato sulla fagialla. Questo piccolo esserino accanto a un carciofo gigante rappresenta la simbiosa. Per Cerda, ecco, volevo sottolineare il valore per questa comunità. Ecco cosa volevo fare, celebrare il rapporto tra cibo, prodotti, esseri viventi, identità e territorio locale. Gli abitanti di Cerda dedicano ogni anno una festa al carciofo, la sagra del carciofo. Qui questo prodotto è coltivato da sempre, è un elemento importante della cultura locale. Guidando in giro per le campagne, qui vedi queste distese di coltivazioni di carciofo che è un elemento distruttivo del paesaggio. Ho utilizzato prevalentemente pennelli ed acrilici, ma lo spray mi è servito per perfezionare meglio alcuni dettagli di luce, per dare più contrasto. Spero che questo lavoro possa far sembrare il carciofo una presenza più forte dentro il paese e che la chiocciola possa far riflettere sul passato, perché è una creatura meravigliosa e spero che il mio murale possa fare apprezzare ancora di più la bellezza di questo vegetale, l'imponenza di questa produzione, la potenza della relazione tra il carciofo e la chiocciola. Era la mia prima volta qui a Cerda. La gente è stata fantastica, calorosa e gentile. È stata un'esperienza incredibile. Mi sono innamorata delle persone e del paese, certamente.